bello occhio a muro bravo Marco, occhio ai piedi, giusto due e mezzo entra Fabio buono chiudiamo dai, Alex cambia vai Fabio, gli ultimi due e mezzo fatti onore dai, 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 tocca buono 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 vai, vai Lorenzo buono giusto le gambe, Alex Alex, contro il muro vai 35-18 passaggio bravo vai Jacopo uno e mezzo alla fine bravo Jacopo bel muro vai passaggio passaggio vai Aurora bravo bella difesa bella difesa ragazzi peccato 20-35 per Grifondoro 30 secondi alla fine vai Jacopo Jacopo buono buono ok Lorenzo dai 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 il sinistro buono dai 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 bella Jacopo gran tiro finita Sì 20 e 35 Salutiamo gli avversari ragazzi Salutiamo gli avversari